Il mondo del crimine non sempre è frequentato da brutti ciffi. Tanto semplice da non capirci niente. A volte può essere un affare per gentiluomini. Storie poliziesche così mi appassiona, i borsaiglioli no. E soltanto un vero principe può realizzare i colpi più audaci. Un'impresa di Arsenio Le Pen è tale quale una sinfonia. Arsenio Le Pen, il principe dei ladri. Un simile complimento da voi. Arsenio Le Pen, ogni domenica alle 21 su Fox Retro.